e benvenuti ragazzi sono saplaneta bentornati in questo nuovo video oggi siamo su minecraft siamo tornati nella vanilla ragazzi oggi lavoreremo un bel po di roba e vorrei tornare di nuovo lì perché so che posso avere l'effetto ride e facendo l'effetto ride ci potrebbero dare un botto di cose se uccidiamo il capo dei ballastieri come si chiamano i villager ecco in più ragazzi noi possiamo ucciderli tutti quanti perché tanto il nostro villaggio è senza i villager quindi non ci può non ci fa nessun effetto se perdiamo se vinciamo cioè non muoiono i villager non vanno a cercare altri villager appunto se non c'è il villager cazzo c'è un creeper ragazzi dicevo noi aspettate che si ripianta la natura bene continuiamo va andiamo avanti qui voi non mi avete detto niente non me l'avete detto di tornare ma io torno perché so che qua c'era un pillager mi ricordo dove era sto pillager aspettate che tengo in mano la spada non si ok dobbiamo prendere un banner raga anche perché è stra bello col banner non lo prenderei però sento pillager ok sono in casa e dobbiamo bussare lì dobbiamo ok sono morti tutti quanti raga balestra indistruttibile e abbiamo qua sopra anche ok morti morti ragazzi ce l'abbiamo fatta è stato hard ma ce l'abbiamo fatta ora abbiamo 5 frecce bene bene lì ce ne sono altre non so se prenderla questa freccia la posso prendere quindi raga abbiamo trovato anche la nuova balestra vediamo se hanno riempito magari che non lo riempiono una botola c'era è vero è un messaggio l'ultima volta ora mettiamo le cose che non mi servono questa balestra io direi teniamo perché è molto utile e non c'è un altro parte quella affogato lì in fondo guardatelo ammazzerei cioè non ammazzano andiamo prendiamoci un po di banner raga appunto perché magari ci mettiamo dalla base e volevo anche che abbiamo anche poco poca vita quindi dovremmo mangiare ma non ho da mangiare dobbiamo scappare a casa ma io direi prima quello è il nostro villaggio vero ma perché sennò abbiamo trovato un altro villaggio scusate per i messaggi raga mi dimentico sempre di mettere ok è tolto raga è andato giù bene è caduto voglio anche questo magari ok presi entrambi roga scendiamo appunto comunque ringrazio le prime persone per appunto il ghetto che sono arthur 33 grazie mille arthur per l'altro fantastica e anche il mio caro ricchi grazie mille ricky che c'è 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 c'estimo un botto perché veramente mi sta aiutando un sacco ma perché ho preso e anche lui mi guarda un botto di miei video e anche cioè non li guarda tutti i video ovviamente non è costretto non lo costringo a guardarli tutti quindi di Ricky e non sei costretto a guardare i miei video dobbiamo anche farlo almeno allora, ora, noi corriamo in casa, dov'è? dov'è casa? così, ok, di qua, non lo ricordo non è qua villager, raga villager forse quello non è stato perché non è entrato a dire cazzo stavo mancato scusate eccolo dov'è? è troppo che mira sono morto, raga eh sì sono morto è meglio che mi porto un po' di roba sì è meglio mi stavo fidando un po' troppo, raga avevo un mezzo cuore eh, vabbè dobbiamo pushare dobbiamo pushare immediatamente eh, il problema è che è notte però non posso dormire se non perdo la roba secondo me quindi corri verso la base no, non era di là vero la base di villager era di là sì, era di là sai, corri, corri, corri raga, stiamo ammazzando un botto di villager e non è solo questo che voglio fare raga, non trovo il villager non so che chi mi ha fatto ma sto ammazzando un po' non trovo più quel posto raga forse abbiamo perso tutta la nostra roba e per carità avevo roba preziosa eh perché ce n'avevo di roba comunque perdiamo tutta la nostra roba forse abbiamo perso ma no, raga, 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 raga zitti, zitti forse era qua era qua era qua sì, era qua no, non era qua non era qua ho perso tutto, raga eh, nulla da fare, raga abbiamo perso tutto il nostro equipaggiamento raga, mi dispiace cioè, non volevo veramente, non volevo perché stavo parlando mi sono perso a parlare ed ecco tutto che succede ah raga, abbiamo perso tutto non penso che sia pure un problema gigante aspetta è qua, è qua, è qua, è qua era qua, raga è lì lì c'è il P-Blogger ecco la nostra roba ok non l'abbiamo persa, raga non l'abbiamo persa prendi tutto prendi tutto mona mona mia mamma mia, raga raga minchia mamma mia cacca cacca oh dio mio raga avevo preso un botto di paura non ne avete idea ora, raga mi equipaggio bene perché dobbiamo tornare tanto indietro oddio mio cacchionina mamma mia che paura, raga che paura che mi sono preso guarda pensavo di non ritrovare mai più la mia roba grazie a dio grazie a dio sono arrivato in tempo ora devo tornare però dov'era mamma mia, raga mamma mia che parto è stato veramente un infarto mi sono preso un vero e proprio infarto raga non sapevo più dov'era la mia roba raga abbiamo il nostro primo cagnolino allora ora non ci resta che andare qui e vedere dov'è il nostro villaggio dove sei villaggio villaggio villager villager attacca cane bravo cane raga il cane ha fatto tutto l'ha sbranato tutti è un campioncino è un campioncino ragazzi allora noi dobbiamo andare a casa ma dov'è casa? non possiamo nemmeno più correre raga perché è morto raga dobbiamo correre dobbiamo correre verso casa perché stiamo per morire di pane morici non ci puoi sempre attaccare mamma mia ci stanno attaccando in troppo ragazzi abbiamo troppa fame dovremmo trovare more 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 siamo morti ora mi porto del cibo basta ora me lo porto il cibo non me ne frega quanta gente c'era là poi cioè no non è possibile stiamo morendo troppe volte ecco qua il nostro bel banner allora ragazzi oggi io voglio creare il portale del nether questo è il mio tentativo e beh proviamoci raga mi hanno ucciso il povero lupo vabbè non potevo prenderlo sinceramente avevo troppa paura sapevo che moriva ma io non penso di andare qua dentro proprio no ragazzi ma forse possiamo già farlo il portale del nether fatemi vedere aspettate vediamo no bella dove si si viene va bene eccola in teoria ce ne sono 6 per farla però penso che non basti vediamo un blocco in caso mai andiamo a prendere allora so che si fa così uno così poi mettiamo due blocchi di ossidiano ma possiamo anche farlo di uno pensandoci ragazzi possiamo già fare il blocco il portale forse vediamo allora forse ne avanzeremo anche di ossidiano beh in quel caso sarei molto felice perché non avevo intenzione di usarla del tutto ok no raga però forse non penso che ce la potremmo fare appunto allora guardate possiamo mettere questo così e questo così ma come vedete ci manca oddio no oddio no non posso farlo con questo oddio raga allora se volete il tutorial di come fare una bellissima statua scrivetevelo sotto nei commenti e almeno a 20 like raga sono un sacco arriviamo e faccio il video in cui ballo renegade cioè il ballo di tiktok quello là che hanno messo anche su fortnite che io ho dovrò ballarlo basta che arriviamo a 20 like e io lo faccio vediamo come viene sicuramente non verrà bene perché faccio schifo a ballare raga ma comunque ci provo intanto abbiamo anche quasi messo tutta in una cassa la roba va bene andiamo a cucinare intanto primo e dov'è ok così facciamo così e mettiamo carbone non abbiamo quindi mettiamo il legno con il ferro vediamo 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 come avviene allora sta bruciando ovviamente ci conviene fare una cosa però non facciamo così ma facciamo ovviamente così così ne abbiamo di più pensateci è dura nello stesso modo ecco il tutorial come avere una schierta allora io direi di fare più utensili e direi anche di fare un incudine no facciamo un incudine raga primissima incudine vediamo se riusciamo a farcela perché quanto c'è un incudine un incudine incudine è vero che dobbiamo andare nel crafting table quindi vediamolo subitissimo incudine ah blocchi di ferro vediamo se riesco a farli raga vediamo perché ce ne vogliono tre sotto vediamo quanti ce ne vogliono per fare un blocco dopo vediamo intanto facciamo tutto questo siamo sotto di combustibile quindi forse non ce la facciamo ma in caso vediamo gli sticchetti e vediamo quanto ci vuole per fare un blocco 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 qua non c'è qua non c'è qua non c'è il blocco eccolo ah ok è tanto costoso raga ma tanto vediamo riusciamo a farcelo in caso casomai andiamo in miniera a fare farming infatti uno ce lo facciamo due non penso non nemmeno tre però ce l'abbiamo il robin combustibile è il problema dobbiamo prendere più però diamo l'accetta l'arco che ormai non userò mai gli da penso questa poi non lo so poi cos'altro la spada in legno i sticchetti e lascia la balestra inutile potrei bruciare tutta questa roba così mi da un po' di roba almeno vediamo un po' aspettiamo 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 che ce lo fanno dai 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 allora noi abbiamo 16 dobbiamo prendere l'altro che abbiamo non è in questa cassa perché questa cassa è vuota questa nemmeno non ce l'ho non ne ho più non ne ho più veramente dai però quanti ne me ne faccio uno non ci credo no non mi faccio nove lingotte mica sono scemo e di due non ce la facciamo va bene e va raga ce la potremmo fare se solo avessimo un po' di più di carbone di ferro magari raga oggi un pasticcio dopo l'altro mi è caduto lo scudo giù cioè ma soltanto io riesco a far cadere lo scudo cioè ma ma sono andato male scusate dai a parte di spezzi veramente probabilmente sempre l'inventario mi ha fatto la lava il piccone cioè mi lancia il lo scudo comunque ragazzi ne vogliono 11 di blocchi ancora e ne abbiamo noi 6 allora io scendo poi c'è un clipper clipper raga raga scifta 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 raga raga ero al bordo ero al bordo ero al bordo ero al bordo al bordo ero ok raga ok andiamo andiamo calmiamoci 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 ok raga questo video dovrà mezzare per quanto dobbiamo fare oggi 9 ce ne mancano 2 2 scriccioletti dai 2 non chiedo troppo ma non riesco a trovare 2 di ferro ok ci fanno dei funghi vabbè non mi faccio domande è meglio andiamo mi stavano chiamando raga da caso non posso rispondere ora mi dispiace basta ok cacchio bene 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 devo abbassarmi e andare avanti ok ok raga abbiamo 7 blocchi non ce la facciamo ma se ne troviamo così a caso siamo fortunati perché c'è per cadere qui raga eravamo qui dove eravamo prima quindi dobbiamo cadere ok ok va bene va bene dai non male non male raga c'è per ferro 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 da stiro mamma mia l'ho trovato un altro si 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 ragazzi abbiamo l'incudine abbiamo l'incudine lo dobbiamo bruciarlo sto dobbiamo prendere il ferro ok andiamo avanti tranquilli qui ok saliamo dobbiamo salire torniamo a casa ovviamente sarà notte e non c'è giorno bene 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 l'importante è che si aggiorano sennò c'era un botto di genti ok ok raga ci siamo siamo in casa intanto usiamo questo sono appena entrato quindi non sapevo che c'era sinceramente ne abbiamo 11 ragazzi e probabilmente possiamo farci il link no ma aspetta ve ne ero completamente dimenticato che è vero ragazzi ne dobbiamo già sprecare 3 quindi non ci bastano di 2 no di 3 di 3 si di 3 non ci bastano ragazzi quindi forse ti toccherà farlo nel prossimo video eh si ci toccherà eh farlo eh tutta questa fatica per niente mi vuoi dire ragazzi veramente sono distrutto io 9 lingotti sono stati sono stati veramente un parto questi 9 lingotti però non mi fermerò perché io sono coraggioso non mi fermo io mai ok raga forse mi fermo ma non ora troverò quei 3 lingotti ce la posso fare lo so ragazzi lo so che ce la posso fare perché vi spiego ora ne ho 6 ce ne voglio 9 per un lingotto ehm ce ne ho 4 ora e 5 quindi 4 più 5 uguale 9 ce ne vogliono 9 per un lingotto non ho altri pezzi non ho altri blocchi di di ferro quindi ci tocca andare di nuovo in miniera ragazzi ci tocca veramente andare in miniera purtroppo per 2 blocchi cioè per 3 blocchi cioè ve ne rendete conto cioè 3 blocchi manco dire 5 miliardi di milioni 3 veramente 3 cioè avete capito cioè sono sconvolto 3 blocchi non ce la facciamo non ci credo raga vi ho tagliato tutta questa parte in cui ho preso questi 7 di materiale perché veramente è un casino cioè ci ho messo un sacco sono tornato indietro avanti vendrino avanti quindi è un casino infatti ora torniamo a casa raga il vostro carissimo youtuber ne ho anche trovati in più e beh ci troviamo quando ha fatto questa cavolo di incudine raga ho sbagliato ce ne vogliono 4 però per fortuna che ne ho preso 7 quindi madonna mi stavo per sparare raga veramente ho detto ma come mai non posso farla ed ecco qua l'incudine questa cavolo di incudine mamma mia se ci è voluto di tempo per farla non avete idea raga non avete idea di quanto tempo ci ho messo perché io ci metto tanto cuore per fare le cose quindi io ora ho la nuova palestra ok quindi quindi niente cosa sto facendo nella mia vita va bene ragazzi io direi di farci anche un bel piccone visto perché intanto abbiamo il ferro e ci tocca ci conviene anzi perché vi spiego io ho poca legna ora vero direte non hai proprio legna infatti non ne ho di legna però posso fare tutto che c'era di casa e toglierlo di pezzo di pezzo anche più dai così non ho tanto più sticca che ne ho bisogno di questi sticca ora chiudiamo andiamo su prendiamo così facciamo così così e poi ci facciamo un nuovo piccone questo tutto questo perché per niente così raga abbiamo almeno un altro piccone e qui ci mettiamo tutti i nostri utensili che non usiamo appunto a parte questi due picconi che li utilizzerò un botto però va bene questo qua non lo uso questo non lo uso anche l'armatura ragazzi mi raccomando dobbiamo mettere tutti gli utensili non ne deve mancare uno qui dentro di quelli che non uso quindi mi raccomando dobbiamo sempre metterli qua dentro infatti adesso come vedete li stiamo sistemando un poco tutti non posso mettere i blocchi mi ricordo qui dentro mamma mia quanto quanto legno avevo vabbè amén ora mettiamo tutti qua dentro i blocchi anche i materiali preziosi tutto anche la torta magari anche le patate anche questo anche questo questi no perché ci potrebbero servire in caso di emergenza questo sì e questo pure e anche questo e anche questo ragazzi abbiamo un bellissimo ordinatissimo a parte che dobbiamo mettere qua dentro la mela perché è molto rara la mela e beh direi di spostare un poco bene direi di mettere bene il nostro appunto equipaggiamento e siamo a posto per tutto l'inverno siamo a posto appunto per un bel po di tempo con tutti questi materiali e tutte queste cose va bene ragazzi sapete che cosa dico noi ci vediamo ad un prossimo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale commentare qua sotto se volete o no che ballo renegade mettete un bel like se volete che ballo renegade dobbiamo arrivare fino a 20 like scrivete sotto nei commenti se vi va bene oppure anche di più o di meno almeno raga almeno sotto almeno più sopra di 15 per favore perché se no io ci muoio non riesco a ballarlo col bello là è troppo difficile quindi ho arrivato a 20 o proprio no arriviamo a 20 like o non lo faccio vabbè ragazzi sta diventando anche un po troppo lungo il video quindi ci dobbiamo salutare aspettate che vado a letto va bene ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video ciao